15 agosto 2023, ferragosto, alcuni sono andati in viaggio, alcuni hanno trascorso la spiaggia, hanno fatto la notata sulla spiaggia e in questo momento sarò già pieno pieno la spiaggia e mio marito sta bene, stiamo camminando, vedi che stiamo camminando, dobbiamo cercare il cibo, dobbiamo andare in negozio là, negozio è lontano, un chilometro e mezzo, speriamo che lui riesci a camminare ancora là, per arrivare lì, vedi che lui sta bene, come stai? Stai bene? Stai bene? Ma la domanda, sì, ma è molto tardivo, molto tardivo, molto tardivo, sono alzata un po' male oggi, vedi che si è gonfiata la pazza mia, comunque vediamo se riusciamo a fare la spesa, perché noi non abbiamo la macchina.